Ehi, grazie per avermi mollato lì. Lo so, c'è stato un imprevisto. Wow, che cos'è? Non lo so. Un tipo voleva vaporizzarmi. Sul serio? Sì. Fichissimo. Cioè, non fichissimo, una cosa inaccettabile, spaventosa. Secondo me, è una fonte di energia. Sì, ma vedi, è collegata a questi microprocessori. È un caricabatteria induttivo, io lo uso per lo spazzolino. Chiunque realizzi queste armi sta combinando tecnologia aliena con la nostra. Questa è la frase più fica che qualcuno abbia mai pronunciato. Voglio ringraziarti per avermi permesso di partecipare a questo incredibile... Le dita devono stare lontane dalle lame. Devo capire cos'è e chi lo produce. Faremo dei test in laboratorio dopo scuola. Grande. Primo, il coso brilloso va nello spettrometro di massa. No, primo troviamo un nome migliore per il coso brilloso. Hai ragione. Cacchio! Vieni, 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 vieni. Mi sento male nel liceo. Hanno questo odore? È come... È uno di quelli che volevano uccidermi. Cosa? Sì. Dobbiamo andare via da qui. No, 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 no. Forse possono conturmi dal tipo che mi ha scaraventato nel lago. Scaraventato nel lago? Sì, una brutta cosa. Peter. No, resta lì. Peter. Peter. Che stai facendo? Niente. Ah. Sì, e tu? Scacchi. Ehi, cosa direbbe il capo se sapesse dove siamo adesso? L'impulso energetico c'è stato proprio qui. Non vedo nessun'arma. E anche se c'era, ora non c'è più. Vediamo via. E anche se c'è più. Questa è una cosa da paura. Lo so, vero? Sono a Brooklyn. Staten Island. Lasciano New Jersey. Si sono fermati. Maryland. Che c'è lì? Non lo so. Il covo del male. Hanno un covo? Sì, ho una banda con armi alieni gestita da un tipo con le ali. Sì, hanno un covo. Cattivissimi. Come ci arrivi se è a 500 chilometri? Non è lontano dal Decatron. Ehi, c'è Peter. Ciao ragazzi. Peter? Sì, mi chiedevo se potevo riunirmi alla squadra. No, te lo scordo. Prima ci pianti in asso, poi ti ripresenti e vorresti pure il bentornato. Ehi, bentornato Peter. Flash, tu ridiventi la prima riserva. Cosa? Prende il tuo posto. Scusate, possiamo andare. Vorrei fare una leggera protesta davanti a una delle ambassate prima di cena, perciò... Protestare è patriottico, tutti sull'autobus. Concentratevi, il prossimo argomento riguarda le lune di Saturno. La seconda legge della termodinamica. Frank Sinatra. Force Hunter. Flash si sbaglia. Concentrati, la prossima. Please non strapozzarli. Eh, stronzi ovario vibranio. Bravissimo, Peter. Bello che sei qui. Anche per me. Qual è l'attuale unità standard della radio... Posso rispondere? Ci metto un secondo. Sì, vai. Pronto? Ho ricevuto una notifica, hai lasciato New York. Il localizzatore. Eh, sì, no, è una gita scolastica, non ha niente, Happy. Essere seguito senza il mio permesso è una totale violazione della mia privacy. Quello è diverso. Cos'è diverso? Eh, niente, senti, è solo il Decathlon Accademico, niente di grave. Ehi, ehi, decido io cos'è niente di grave. Sembra niente di grave, ma attento, ti tengo d'occhio. Cerchiamo di stare vicini. Hai capito, questo posto è mega. Ne ho visti di più grandi. C'è un uccello lì. Hai portato il tuo computer, vero? Perché...